Ci sono due palloni in campo, Reia Volta alle spalle al campo, osserva il cronometro deluso perché sperava che al 42esimo, un minuto e 30 secondi, il Napoli fosse in vantaggio. Attenzione, attenzione a Salaceta, azione personale, Salaceta, in area di rigore, Salaceta sinistra in rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Salaceta, Salaceta, Morfeus, Morfeus, che azione, che gol, che numero di Morfeus, Salaceta, porta il Napoli in vantaggio, 1-0 per gli azzurri, minuto 43, sblocca il risultato, fa tutto il campione, Morfeus, Salaceta, il capo, il capo dei rivoltosi, Morfeus, Salaceta, che azione personale, rivediamolo adesso, guardate Salaceta, mette palla a terra, evita l'avversario sinistro e gonfia la rete, 1-0 per gli azzurri, quando ormai si temeva, si dovesse andare al riposo in parità, invece è stato lui, Marcello, Morfeus, Salaceta, a portare il Napoli in vantaggio, Napoli 1, Catania 0, gol di Salaceta, Guizzo, formidabile, formidabile di Salaceta, quinto gol.